Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo la Presidente di Fratelli d'Italia, il governo ha una sorta di atteggiamento consensiente, consente le provocazioni a Fratelli d'Italia. Allora, vi do la mia visione come sempre. Il fatto è questo, non si tratta di dire al governo che non voglio che nessuno mi contesti, mi rovini la piazza perché io vado lì a fare la piazza e ci sono quelli che mi dicono le parolacce. Non è una questione di voler sopprimere la libertà di espressione, di contestazione. La libertà di contestare è sancito dalla Costituzione. Benissimo. Però è diverso, è diverso, ma completamente diverso, se queste contestazioni hanno una regia e sono fatte con l'intento di provocare una reazione nei sostenitori di Fratelli d'Italia per creare dei tafferugli in un comizio e poi tacciare la destra di essere squadrista. Questo è l'intento. Questi contestatori che vanno in ogni comizio della Meloni e di solito la contestazione arriva a un certo momento della manifestazione, si mettono, arrivano e stanno nell'angolo, negli angoli, fischiano, urlano, però sono dietro i sostenitori, non sono a contatto, sono dietro, fanno un po' di cinema e poi se ne vanno. Vabbè, insomma. Ma se questi contestatori si mettono ore prima ad aspettare pazientemente in mezzo, in mezzo a migliaia di sostenitori e quando inizia il comizio, cominciano a dire parolacce alla Meloni, che ho sentito, cominciano ad offendere le migliaia di persone che si trovano lì per un comizio in maniera pacifica, liberamente vanno a sentire chi gli pare, e questa è una provocazione per cercare lo scontro con qualcuno che dica, no, beh adesso hai esagerato, no? Cercano lo scontro in modo da poi dire, avete visto i tafferugli durante un corteo con la polizia che interviene? Cercano lo scontro per dimostrare che quelli che sono e vanno a vedere la Meloni sono dei residuati del ventennio, eccetera, degli squadristi del 2020 che marciano su Roma. Ecco, capite che qui non si parla di semplice libertà di contestazione, vabbè, contesta, ma se la cosa diventa una provocazione fatta con questo scopo, la Meloni ha anche il sospetto che vengano consentite queste cose perché in fondo in fondo non possono che portare un vantaggio a chi si dice che vada a perdere, alla sinistra. Oggi chi è che comanda? C'è un governo con il centrodestra anche ma comanda come sempre la sinistra. La Lamorgese è messa lì, è confermata da un ambiente di sinistra. Pertanto capite che il sospetto della Meloni non è tanto strano, anzi, è molto realista, realistico, è un sospetto che sembra molto quadrare, sembra molto quadrare. La leader di Fratelli d'Italia dice sono consentite le provocazioni. Berlusconi interviene e dice noi siamo diversi da Fratelli d'Italia, però dire che lei è antidemocratica è ridicolo e devo dire che la Meloni non ha bisogno neanche dei miei consigli. Non ha bisogno che io la consigli in niente. E questo comunque è un... sono quelle lodi inaspettate da quel Berlusconi che fino a qualche mese fa rideva dicendo Meloni o Salvini Premier, ma dai, ma non scherziamo, dai, ma cosa state dicendo? Diceva così nelle interviste, ma non scherziamo, ma che dite? Ecco, il Berlusconi che sminuiva le possibili capacità di Meloni e Salvini, oggi dice non ha bisogno dei miei consigli, può benissimo far da sola, anzi, dire poi che è antidemocratica è ridicolo. Ridicolo. Ma per Giorgia Meloni la visita poi di Enrico Letta a Berlino è il classico caso di chi baratta il sostegno estero con l'interesse nazionale. E poi la Meloni denuncia questo presunto sistema di potere articolato e alleato contro il suo successo. Dice in nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte dei ministri, cariche istituzionali e grandi media. È un'accusa esplicita anche diretta contro il governo Draghi, contro il disegno di cui lei sarebbe vittima quando sale sul palco. In nessuna democrazia occidentale il governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordine durante la campagna elettorale, nelle manifestazioni politiche dell'opposizione. Questa gente parla di Europa ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare. Io credo che uno di questi contestatori che perde tutta una giornata per andare a prendere posto nel comizio di Meloni e appena comincia a dirgli le parolacce, credo che non ci sia bisogno di fare commento, sono dei poverini. Se tu utilizzi il tuo tempo per andare a dire le parolacce alla Meloni, a che cosa serve? La democrazia si esercita con il voto e con il dialogo. Vuoi criticare la Meloni? Iscriviti a un partito di sinistra, fatti strada, fai dei comizi, fatti eleggere, ma perdere una giornata per andare a sentirti il comizio di Meloni e ti metti pure a dirgli le parolacce, c'è anche il rischio che la Meloni ti convinca delle sue idee, che finisce il comizio e ti sei fatto la tessera di Fratelli d'Italia, perché di solito chi è un po' così è molto, come si dice, è molto malleabile, è molto, diciamo che può essere convinto facilmente delle cose. Quindi se vanno lì ad assistere a un comizio di Meloni per dirgli le parolacce, poi potrebbero finire facendo la tessera di Fratelli d'Italia, dice beh, ecco, potrebbero diventare dei sostenitori di Giorgia Meloni, perché sono persone facilmente condizionabili, no? Questa è la realtà. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video.